Il rasoio elettrico Philips Nivea 4 Men HS84-60 garantisce una rasatura efficace e precisa su tutto il viso. Il design è studiato nei minimi dettagli, l'impugnatura garantisce un'ottima presa in ogni condizione. Il suo sistema di rasatura lift e cut e le testine indipendenti che si adattano perfettamente ai contorni del viso e del collo permettono di raggiungere anche i peli più difficili, regalandovi ogni giorno una pelle liscia e morbida dopo ogni rasatura. La crema contenuta nel rasoio a base di Microtech naturale idrata la pelle durante la rasatura e previene le irritazioni. Grazie al sistema Wet n Dry sarà possibile utilizzare il rasoio Nivea 4 Men di Philips anche sotto la doccia. L'acqua calda aiuta ad aprire i pori per una rasatura ancora più piacevole. Una volta terminata la rasatura sarà possibile riporre il dispositivo nella sua base, dove si ricaricherà e si riempirà di crema in modo del tutto automatico per una rasatura perfetta ogni giorno. Philips HS84-60 è un rasoio davvero ottimo, ideale per ogni uomo che tiene alla cura del proprio viso.